Prima uscita pubblica dopo la presentazione delle liste di qualche giorno fa per la compagine l'altra Satriano che candida a sindaco Massimiliano Chiaravalloti, supportato da una squadra che ha voglia di ripartire e guardare al futuro, al futuro di Satriano. Torniamo in campo dopo l'esperienza amministrativa precedente, torniamo in campo con una voglia nuova e una mentalità nuova. Questa lista, l'altra Satriano, è nata dall'unione di due gruppi che erano la svolta buona per Satriano che faceva riferimento a me come capogruppo e la primavera per Satriano che aveva come capogruppo Giuseppino Basile. Dall'incontro di queste due liste, di questi due gruppi, è nata successivamente la lista l'altra Satriano che sarà in campo il 20 e il 21 settembre per le elezioni che riguarderanno il nostro comune. Ecco, soprattutto con che spirito si ritorna in campo, viste le passate, le precedenti esperienze un po' fallimentari, diciamo, la ricordiamo, nell'amministrazione Battaglia, di Aldo Battaglia come assessore al bilancio, poi di missionario. Si torna in campo con uno spirito nuovo e completamente diverso da quello precedente. Secondo me questa volta sarà un'elezione che darà una svolta generazionale al nostro Paese. Noi abbiamo fatto un calcolo statistico, l'età media della nostra lista è di circa 38 anni, quindi è una lista molto giovane che si presenta appunto con dei progetti nuovi, alternativi, freschi possiamo dire. Il puntare su questa sorta di rivoluzione generazionale sarà il nostro cavallo di battaglia. Ecco, recriminate qualcosa del passato e poi naturalmente guardando al futuro da cosa bisogna ripartire per Satriano? No, sul passato abbiamo messo una pietra sopra, bisogna metterlo da parte e guardare solamente al futuro, perché se si continua a guardare al passato non si andrà da nessuna parte. C'è voglia quindi di ripartire guardando solamente avanti, dimenticando tutto quello che è successo finora e proponendo alla gente progetti, idee e programmi per il nostro Paese, senza alcuna polemica, senza alcuno scontro personale, ma solamente parlando di programmi e di progetti. Per quanto riguarda i punti programmatici, noi punteremo molto, soprattutto sulle politiche ambientali. A maggior ragione per la nostra generazione che vuole guardare al futuro, non si può prescindere dall'affrontare i problemi ambientali. Poi altri punti del programma saranno sicuramente i servizi comunali, che dovranno essere potenziati per tutta la cittadinanza, ci sarà una cura del territorio e anche delle strutture comunali, che vanno riqualificate, rimesse in funzione, si dovrà parlare di piano strutturale comunale, si dovrà guardare anche ai comuni limitrofi per quanto riguarda i grandi progetti, tipo il porto, il completamento del depuratore, la viabilità sovracomunale, così come si dovrà affrontare il problema della scuola, soprattutto dopo questa emergenza Covid. Noi abbiamo il programma di ampliare l'edificio di Via L'Europa, poi non bisogna dimenticare le politiche sociali, quindi l'attenzione per le fasce più deboli della società. Abbiamo detto che dall'unione dei due gruppi nasce questa nuova realtà politica che sarà presente alla competizione elettorale di settembre. Il perché di questa unione? È stato semplicissimo, dopo aver ascoltato e aver avviato confronti con tutte le forze politiche, i gruppi anche liberi all'interno della nostra comunità, abbiamo in maniera naturale deciso di unirci al gruppo capitanato da Massimiliano Chiaravalloti e senza nessuna forma di personalismo, ma guardando semplicemente al futuro e ai programmi, alla voglia di risanare questo paese e renderlo degno di nota per quello che merita, abbiamo concesso, abbiamo accordato con entusiasmo di donare, di dare, di affrontare questa nuova esperienza con la leadership di Massimiliano. Massimiliano Chiaravalloti è un ragazzo che per quanto riguarda Primavera per Satriano una cosa deve garantire, rettitudine, trasparenza e legalità. In questo, nella sua persona abbiamo visto chiaro questi connotati, è su questo che baseremo la nostra campagna elettorale, non guarderemo al passato, non perché vogliamo chiudere gli occhi, ma semplicemente perché non abbiamo tempo da perdere per andare lì a spulciare cose che ormai sono passate.